che la gara di super mario kart abbia inizio 3 2 1 vincerò io questa gara shikara non ci pensare nemmeno mario è il migliore che cattiva no sono ultima dai ragazzi aspettatemi mamma mia ciao sì 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 come mio sei banana devo colpire qualcuno non posso sbagliare vai super matti si stanno divertendo troppo sono così disgustato basta parlare hai ragione wario è ora di agire ma dove sei andata è difficile mario è caduto nella mia trappola l'ho superato sto arrivando falsacchiotti lasciate un mi piace se ti fate per mario oppure iscrivetevi al canale se fate per nina peach fatelo tutti quanti aiuto sto per schiantarmi questa trappola è perfetta sono stufo di vederli sempre divertirsi giocare cambieranno direzione cadranno nella nostra trappola eccomi andiamo ce nè sono prima facciamo che ti raggiungo ragazzi ma qui c'è una curva ma non era così il percorso ma dove andate aspettatemi ma che bello super mario nella vita reale ma quanto è divertente questa gara inizia essere un po faticoso però aspettate dove sono Yoshi e Luigi ragazzi ma non sono usciti eh vabbè saranno indietro continuiamo la gara ok va bene eh aspettate ma il mio non va ah giusto è con le gambe l'ho preso l'ho preso l'ho preso super velocità ma quanto è veloce ma è velocissima non la raggiungeremo mai Mario ma tu non puoi fare niente per andare più veloce no però posso superarti sei pronto Donkey Kong la ciufferemo sicuramente Wario sta arrivando che bello sono prima no no è irrevati no Mario ti devo superare vai via vincerò io mi hai bloccato mi hai superato mi hai superato aspetta che sto arrivando aspetta che ti prendo oh no dai non ci credo ma non è possibile mi sono incastrato ciao Mario ciao che meraviglia ma quanto siete veloci nina nina giulì mario mario che c'è non ci puoi credere che è successo guarda chi c'è cosa nina ma che ci fai lì non lo so mi sono ritrovata qua e in più sono anche legata aiutatemi vai 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 liberiamola sì dobbiamo slegarla mario ma come è successo non lo so chi è stato non lo so matti mi sono ritrovata qui ma non ti ricordi nulla no niente tu eri in prima posizione esatto e poi mi sono ritrovata qui ma noi pensavamo avessi usato qualche potenziamento sì sì sono andata più veloce ma poi non so cosa è successo ho visto tutto nero e ero qua cosa aspetta un secondo ma non è che sono stati può usare i suoi scagnozzi finalmente sono di nuovo in gara guarda che sono migliorato eh wow c'è un combo lo prendo io wow banana oh no ma no ho preso la banana ma l'avevo lanciata io Luigi lasci dove sono gli altri non lo sappiamo non lo sappiamo è vero zero noi non sappiamo niente da quanto ci hai rapito abbiamo perso le loro tracce quindi non chiedere non lo sappiamo mi conviene dircelo se non passerete tanti guai ve lo giuriamo ve lo giuriamo non lo sappiamo non abbiamo idea ce l'ho fatta è da tanto che non sento Luigi ma dove è finito troviamo a chiamarlo Yoshi dobbiamo trovare una soluzione assolutamente cosa possiamo fare aspetta Mario rispondi e non dirgli che sei qui va bene Mario ehi ciao Luigi ma dove sei non ti vedo più nella gara io sono secondo Candy dov'è eh no non ti posso dire dove sono ora ho da fare ma tu dove sei io sono all'area picnic va bene ti devo attaccare ciao ok ciao comunque mi sto divertendo tantissimo oggi siamo all'Uneur Park a Roma scannerizzate anche voi il codice QR che è comparso in questo momento per prendere il vostro biglietto e divertiamoci tutti insieme Ninna arrivo sono all'area picnic sono all'area picnic ben fatto andiamo è un po' faticoso andare a shikarse ma questa gara è bellissima la prossima volta prendiamo quelli col motore di kart si va bene tolto tutto bene no perché sono ultimo dai andiamo eccole andiamo oh no scappate aiuto ci sono i cacchini scappate 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 aspetta ho bisogno di qualcosa per sconfiggerli un cubo un cubo lo prendo io dai 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 si è mio non posso sbagliare non posso sbagliare devo colpirli non ci credo li ho mancati mamma mia sono così stanca di scappare dai cattivi non ce la faccio più almeno siamo riusciti a seminarli però si io ho anche tanta sete ma aspettate ragazzi cosa quelli sono i kart di Luigi e Yoshi aspettate ma se i kart sono qui vuol dire che sono qui vicini Yoshi e Luigi si hai ragione Matti è vero oh no i cattivi scappate scappate fermi dove siete correte si andiamo aiuto vi aggiusteremo vanno ad aiutarli in un momento giusto per scappare andiamo andiamo aspettali aiuto ma come hanno fatto che paura corri corri Todd ci scapperete gira gira io ci sto provando dobbiamo seminarli venite dobbiamo seminarli io non ce la faccio più dai Mario resisti e allora rivendicassi ehi ce l'abbiamo fatta si aspetta un attimo ma abbiamo scappato di tutto abbiamo ma guardarmi dove andate ma scappato che bello siamo di nuovo insieme tutto è bene quel che finisce bene aspettate ma qual è il traguardo andiamo sono il vincitore uffa ma qui all'ultimo mi dovevi prendere non è colpa mia si ci siamo liberati dai cattivi vero vero non è colpa mia non è colpa mia non è colpa mia